Ciao dolcezze, ciao dolcezze, ciao dolcetti Nuovo video, ho paura sempre che si piega il microfono sulla maglia, non mi sentite? Allora, nuovo video di suoni, con il pettine e farò un po' di tongue clicking, ok? E altri suoni, tico tico mouth sounds, un suono, un suono, un video di suoni Mi è stato richiesto il video del pettine da Benedetta, perché piace a lei e non solo a lei Quindi facciamo un po' di suoni con questo pettinino che vi è piaciuto tanto in un altro video, ok? Rilassatevi, spero si senta bene, tutti i suoni che faccio spero si sentano bene Buon relax, a presto, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Mi piace troppo parlare, scusate. Sarà un video breve ma intenso, spero che vi piaccia. Tico, 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 tico. spero stiate tutti bene tutte e tutti bene grazie Benedetta per le richieste e non solo lei, grazie a tutti quelli che mi fanno richieste di video, ok? grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a presto grazie a tutti a presto dolcezza e dolcetti chiudete gli occhi chiudete gli occhi chiudete gli occhi chiudete gli occhi buonanotte buonanotte a presto grazie a tutti